Mobili da foreste urbane di rifiuti legnosi di ogni genere. Rifiuti che diventano materia prima nell'industria del mobile. Un flusso alimentato dagli accordi con 5.000 tra comuni e aziende per la raccolta dei rifiuti italiane ed estere. Un esempio di economia circolare che permette di evitare l'abbattimento di 10.000 alberi al giorno, oltre che l'abbattimento dei costi aziendali di approvvigionamento. L'economia circolare è stata fondamentale nella storia del nostro gruppo perché ci ha permesso comunque di avere un vantaggio competitivo per esempio nella raccolta della materia prima. Quando utilizzavamo legno vergine avevamo costi decisamente più alti. Oggi grazie all'economia circolare oltre a svolgere un servizio ambientale abbiamo anche un vantaggio economico. Nel futuro c'è un piano robusto che prevede oltre 300 milioni di vestimenti, la maggior parte dei quali nell'economia circolare. Nel recupero dei materiali ci sono anche 20.000 tonnellate di ferro che vengono vendute e tornano così sul mercato. In questi impianti non si tratta più legno vergine dagli anni Ottanta, ma solo mobili vecchie, cassette della frutta, pallet e altri pannelli di truciolato che una volta lavorati rientrano in case ed uffici. La cosa che mi piace veramente della nostra attività è che riusciamo a trasformare una materia prima così povera in di fatto un mobile di prezzo.